Oggi sicuramente possiamo dire che il Covid fa meno paura, abbiamo meno casi, meno ospedalizzazioni, meno decessi, anche se comunque dobbiamo sottolineare che nell'ultima settimana abbiamo avuto 129 decessi, quindi quasi 20 decessi al giorno. Perché ci fa meno paura però? Perché da una parte certamente il virus si è in qualche modo indebolito, cioè in queste sue tante mutazioni con la comparsa di Omicron ha perso un pochino della sua aggressività, ma più che questo quello che conta è l'immunità che si è creata nella popolazione. La grande campagna vaccinale che abbiamo fatto, il concetto che il virus comunque abbondantemente circolato e anche le infezioni naturali hanno fatto sì che la nostra immunità, l'immunità della popolazione riesca a controllare meglio questo virus. E questo è vero perché basta vedere quello che è successo in Cina. In Cina poche settimane or sono, lo stesso virus è circolato, è circolato in una popolazione che per il lockdown e per la scarsa vaccinazione non era immune nei confronti del virus e lì abbiamo avuto molti decessi. Quindi certamente oggi possiamo stare più tranquilli perché il virus ha perso la sua patogenicità, ma è il grande lavoro che abbiamo fatto con la vaccinazione che ha determinato la situazione che stiamo vivendo oggi con maggiore senerità. Quali sono le categorie più fragili che devono essere protette dalla vaccinazione? E questo ovviamente sono quelle categorie che hanno pagato il maggior scotto per colpa di questa malattia dove abbiamo registrato il maggior numero dei decessi. Sono le popolazioni e le persone più anziane, sono l'obesità, abbiamo imparato a conoscere che l'obesità è un fattore di rischio per avere una malattia più severa, sono tutte le comorbosità, quindi le malattie croniche debilitanti come può essere il diabete, l'insufficienza respiratoria, l'insufficienza renale e poi ovviamente sono i pazienti emato-oncologici, cioè sono i pazienti che hanno tumore che già di per se stesso riduce le nostre capacità di difesa e poi ovviamente devono fare terapie immunosoppressive. Queste sono le popolazioni più fragili che devono maggiormente essere protette. Certamente sono anche le popolazioni in cui la vaccinazione deve essere fatta con una schedola vaccinale, con un numero di somministrazioni che è leggermente più ampio rispetto al resto della popolazione proprio perché avendo un'immunità più fragile hanno bisogno di una maggiore esitazione. Certo oggi stiamo vivendo un po' un periodo che definiamo di esitazione alla vaccinazione, cioè le persone sono evidentemente, giustamente, comprensibilmente stanche del vaccino, però dobbiamo ricordare il grande vantaggio che il vaccino ci ha dato. Oggi diciamo che in Italia probabilmente 150.000 persone non sono decedute grazie al vaccino, quindi dobbiamo convincere le persone a tornarsi a vaccinare. Probabilmente ci stiamo avvicinando sempre di più a quella che sarà una vaccinazione stagionale, cioè una vaccinazione una volta all'anno e questo quindi porterà sicuramente una ripresa della vaccinazione in tutte le categorie delle persone, ma mi raccomando soprattutto alle persone più fragili.